Anche oggi parliamo di teatro, ma perché parliamo di un grande amico di Good Morning Milano, un festival teatrale che abbiamo seguito, credo, fin dalla prima edizione. Adesso poi lo chiedo al fondatore e direttore del Milano Off Fringe Festival di Milano, Renato Lombardo, buongiorno! Buongiorno, buongiorno Good Morning Milano, buongiorno a te Fabio e a tutta la redazione e agli amici in ascolto. Grazie mille del buongiorno. Renato, effettivamente ci conosciamo e ci seguiamo, penso, fin dalla prima edizione, quella fatta, se non ricordo male, nel quartiere Isola, giusto? 2016 si chiamava allora Isola Festival, Fringe Festival, Milano Off. Fu la prima edizione, la primissima edizione del Fringe, fatta al quartiere Isola, e voi siete stati i primi media partner ed avevate la postazione, se ricordi, Asteca? Sì, che bello! La mamma Asteca iniziò tutto lì la nostra avventura nel 2016 e devo ringraziarvi perché siete stati la nostra prima voce nell'Italia del Milanese. Quindi grazie Fabio, grazie Milano All News e diciamo alla sesta edizione, dopo otto anni in distanza, siamo ancora qui. Eh sì, ma perché? Perché le cose belle vanno raccontate, Renato, e quindi cosa ci si aspetta, cosa dobbiamo aspettarci quest'anno da questo Fringe? E soprattutto ricordiamo un po' appunto questa parola, Fringe, che cosa significa? Appunto Milano Off è abbastanza semplice, no? Siamo a Milano, Off perché poi ce lo spiegherai bene anche tu in Italia, ma Fringe perché? Che cos'è? Beh, in effetti noi ci colleghiamo alla tradizione internazionale dei festival Fringe che nascono ad Edimburgo più di 76 anni fa, nel 47, quando a Edimburgo nel festival IN, quello istituzionale della città, quindi compagnie fermate e istituzionalizzate, si presentarono quattro compagnie locali che volevano portare in scena dei temi contemporanei, dei temi attuali, il rinnovamento del teatro, indipendenti e autoprodotte, quindi fuori dai circuiti, e furono rifiutate nel 47, allora andarono a posizionarsi in una chiesa fuori le mura di Edimburgo, quindi nel Fringe, nella frangia fuori, esterna, fuori la cinghia insomma, e lì passò un giornalista e disse il vero festival, il vero teatro, il rinnovamento è qui. Bene, l'anno dopo le quattro compagnie diventarono 40, l'anno dopo ancora 400, insomma oggi Fringe Edimburgo conta 3.000 spettacoli al giorno per tre settimane e stacca più di 4 milioni di biglietti, vent'anni dopo gli francesi videro il modello e misero su lo stesso modello, c'era a Davignone il festival IN, che ancora esiste, al Palazzo dei Papi, e altre compagnie si posizionarono negli spazi spazietti e teatri sempre fuori le mura, quindi sempre Fringe, però i francesi lo chiamarono Off. Off, ah, vedi. Quindi ecco, e oggi contano 1900 spettacoli al giorno per tre settimane per più di 2 milioni di biglietti. Quindi questo modello Fringe, poi in maniera anglosassone, ma Off in maniera francofona, è diventato un modello internazionale. Oggi contiamo più di 300 Fringe o Off a livello mondiale nella World Fringe Community, dove noi facciamo parte accreditata come Fringe Italia, perché vi racconterò ora cosa è successo in questo anno che ci siamo visti. Ah, ecco. E questa è la tecnologia, quindi non ci siamo inventati assolutamente nulla, abbiamo messo insieme i due modelli anglosassoni e francofoni insieme, riadattandoli al modello italiano, quindi a Milano a settembre e a ottobre a Catania. Perfetto, e infatti fra poco, quindi poi ne parleremo di quando appunto potremo cominciare a vedere questo Fringe, piccola nota a margine, è quel festival, il Fringe di Edimburgo, che c'è, passa un attimino così, perché non è il protagonista, anche nella famosa serie Baby Render, lui va a Edimburgo a portare questo spettacolo, lo fa durante il Fringe Festival, così giusto volevo darvi questo... Allora ho raccontato proprio ieri Brachetti, ho raccontato questo episodio, era un artista un po' sfigato, Edimburgo, che faceva Edimburgo da oltre dieci anni, erano in una cantina, faceva dieci spettatori a sera, fu stalkerizzato da una donna un po' grassa, scrisse questa storia e poi diventò un grosso successo, fino a finire a Netflix e ora... E infatti, infatti... Cioè, è diventato milioni e milioni di cose... Sì, ma comunque sono... Portandosi a casa un Emmy ieri sera, tra pari... Di base sono compagnie, diciamo, Fringe, off che sia, di base sono compagnie indipendenti autoprodotte. Ecco, e allora, prima di andare con la prossima canzone, che parte fra poco, però mi dici cosa... Cioè, quante saranno le compagnie in scena a Milano, in quanti luoghi, soprattutto come sempre, particolari, non solo teatri, giusto? Perché questo è anche il tema del Fringe Off. Sì, allora, saranno dal 26 settembre, diciamo, le compagnie del Fringe, perché poi il Fringe è diviso in diverse sezioni, ne parleremo dopo, ma la sezione proprio del Fringe, del teatro in diffuso, conta ben 52 spettacoli, sono 44 compagnie per 52 spettacoli, con 208 repliche, in 16 spazi performativi, ma il Festival Tutto, con le altre sezioni, conta ben 260 eventi, in 4 sezioni, in oltre 40 spazi, 43 spazi. 43 spazi. Di questi, quanti sono teatri classici, giusto per capire? Allora, teatri classici a Milano, purtroppo, non ce ne sono. No, ma non è purtroppo, a me piace, posso dire la verità. No, 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 non ce ne sono, perché Catania è un po' diverso. Noi, a Milano, lavoriamo sugli spazi inaspettati, sugli spazi performativi, un po' della Milano nascosta. Sono strutture che fanno cultura in altro modo, c'è Linea Pelle, che è un negozio, che diventa uno showroom, che diventa spazio performativo. C'è la palestra di box, che diventa spazio performativo. C'è lo spazio del... un atelier di... Di tutto, di tutto e di più. Di tutto e di più, davvero, come dicevi poi, importante appunto della Milano un po' nascosta, o che non ti aspetteresti possa diventare un luogo appunto performativo per il teatro. Renato, rimani con noi, Renato, rimani con noi, perché appunto poi voglio entrare bene nello specifico, capire tutti gli altri eventi, tutte le sezioni di questo festival, perché, ricordiamo, inizia il... Il Fringe, la sezione Fringe, inizia la prima settimana dal 26 al 30 settembre, dal giovedì a domenica, e continuerà poi dal 3 al 6 ottobre, perché gli spettacoli si tengono dal giovedì alla domenica. E allora poi appunto adesso torniamo qui, dopo un po' di musica, perché voglio sapere tutto quello che c'è da sapere su come muoversi all'interno di questa Milano, molto, molto ben invasa, e sono felice di questa invasione, del Milano off Fringe. Andiamo avanti con un po' di musica, e poi appunto torniamo qui con Renato Lombardo. Tananai con sesso occasionale, 8 e 24 minuti, sempre qui, Crystal Radio, Good Morning Milano, siamo collegati con Renato Lombardo, stiamo parlando appunto del Fringe off Milano, questo festival giunto, mi dicevamo, a sesta edizione in otto anni, no? Cosa dicevamo prima? Ho sbagliato i conti, no? Sesta edizione in otto anni, ok, perfetto. Perché, beh, giustamente, negli anni del Covid è stato un po' difficile gestirlo, la situazione, finalmente adesso si è tutto a posto, e anzi, il prossimo weekend, la prossima settimana appunto, inizia tutto, e cosa ci dobbiamo aspettare, l'abbiamo detto, come ci dobbiamo muovere per comprendere al meglio appunto questo festival? Allora, il festival fondamentalmente è diviso in quattro sezioni, ma se vogliamo anche in due. C'è il Fringe Festival, quello che presenta appunto questi 52 spettacoli in 16 spazi, formato da una chiamata di oltre 300 compagnie che si sono presentate alla nostra chiamata agli artisti, e i 16 spazi hanno scelto i loro spettacoli da proporre, e quindi ogni spazio proporrà o due o tre spettacoli, a distanza di due ore, gli artisti hanno due ore per fare montaggio, spettacolo, smontaggio, quindi tu saranno i spettacoli delle 17, a seguire il secondo spettacolo alle 19 è diverso, e il terzo spettacolo alle 21 come linea di fare. Oh, perfetto, posso venire anch'io, allora che io quello delle 19 ce la posso fare, poi finisce presto e riesco a tornare a casa a dormire, quindi grazie per pensare anche a noi vecchietti che non possiamo fare le ore piccole, grazie. Sì, ma sai è diventato il trend pomeridiano, ormai è un trend metropolitano a New York. Ah, vedi, sono avanti io, ecco cos'è, non sono un vecchietto, sono avanti, ecco cos'è. Tra la presenza di Renato hai detto una cosa interessante, gli spettacoli sono a due ore l'uno dall'altro, questo significa anche che gli spettacoli non durano troppo, perché io mi ricordo una tua frase che porto sempre con me nel cuore, che dici che dopo un'ora o un'ora e mezza, non mi ricordo, quant'è che dici? Un'ora e un quarto. Dopo un'ora e un quarto è sequestro di persona, tu dici, giusto? Ok, perfetto. Dopo un'ora e un quarto, perché se hai qualcosa da dire, in un'ora e un quarto ha voglia che lo dici, no? Giusto, 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 giusto. E quindi appunto, allora, il blocco centrale del Fringe è questo, ma poi ci sono altri blocchi, giusto? C'è un festival che unisce i quartieri di Milano, tutti i quartieri di Milano e devo dire questo grazie all'assessorato alla cultura del Comune di Milano e a Tommaso Sacchi, siamo stati per il terzo anno vincitori o ammessi quest'anno vincitori del Bando Milano Evviva, e quindi viva nel quartiere e quindi il nostro lavoro è stato quello di connettere tutti gli spazi invisibili di quasi tutti i quartieri portando realtà artistiche nate nei quartieri e non solo e facendo in una sorta di osmosi, facendo riconoscere da un quartiere all'altro per creare una rete territoriale di marketing culturale che tra spazi che dovrebbero cooperare e creare una prossima mappa di tessuto interattivo dei quartieri e anche dall'altro lato una base di tessuto artistico che può girare in questi spazi anche tutto l'anno. D'altronde la rete... Interessante questo, cioè non è solo quel momento lì, non è solo fatevi vedere come è, fatevi vedere così che poi magari possiate rimanere sul territorio e muovervi all'interno di questi territori fatti di quartieri. Complimenti, bella legge. Ma il mio concept, diciamo dopo tanti anni di organizzazione, non è mai più destinato all'evento sì che semplici terremuore e finisce. Tutti gli eventi che progetto e faccio hanno sempre una prospettiva futura perché alla mia età penso di voler lasciare qualcosa. Cioè l'evento deve servire, se non vedi la televisione dico, cioè il live va bene, ormai come San Tommaso c'è, con tutto quello che sarà l'intelligenza artificiale e tutto quello che passerà in video non sappiamo neanche più se è vero, se è realtà. Quindi l'unico modo per andare in contatto con la realtà sarà venire in teatro e andare ai live. Quindi grazie all'intelligenza artificiale credo che ci sarà un grosso ritorno ai live e quindi dico i miei progetti sono sempre di questa natura e soprattutto io ho lasciato, come sai, il jazz per dedicarmi a questo concept del Fringe perché ha una prospettiva territoriale, ha una prospettiva culturale, ha un risveglio, perché questi spettacoli, sai, che proponiamo non sono solo autoprodotti ma sono catartici rispetto all'autore che spesso è anche l'attore di portare scena a pezzi di vita reali, necessità di qualcosa che l'attore ha da dire veramente perché lo ha avuto quel problema, lo ha scritto e lo porta in scena. E il problema che possa essere la ludopatia, il femminicidio, la droga, qualsiasi rapporto padre-figli, ma anche la ritata ironica su dei fatti importanti, come diceva ieri Moniovadia, se io ti porto a vedere i fatti di guerra, tu cadi in depressione e magari ti suicidi perché è talmente cruda quella realtà lì, il teatro è l'unico mezzo per farti toccare con mano delle realtà atroci ma facendoteli vedere in maniera distaccata, ma ti porta dentro. Questa è l'importanza del teatro sociale e quindi va diffusa nel sociale. Bene le strutture in, ma dobbiamo riempire la città di strutture off e fringe. Questo è il progetto. Mi sono dilungato sulla... Però si è capito anche come ti è a cuore questo progetto perché insomma hai anche... Abbiamo cambiato voce, abbiamo cambiato anche modalità di espressione quando hai cominciato a raccontare davvero cosa c'è dietro. Perché un conto è appunto il cartellone, dei nomi scritti, dei teatri, degli spettacoli, ok, gli orari e via. Qui è molto di più appunto, cioè proprio creare un tessuto, creare una voglia anche poi di una richiesta da parte del pubblico di tutti i giorni e dire a me ma io quella roba lì la voglio tutti i giorni, quella roba lì la voglio vivere, la voglio di nuovo, queste esperienze le voglio sempre nei miei quartieri, ad esempio in questo caso come appunto dicevi nel cercare di unire anche i vari luoghi della città. Poi cosa c'è altro? Perché ci sono tante altre cose all'interno di questo festival. Diciamo che questo off dell'off è la parte appunto gratuita. E questo è l'off dell'off, giusto questo? Off dell'off, sì sì, il cartellone è il cartellone. Voglio dire quando è che ti fermerai, perché secondo me a un certo punto fai l'off dell'off dell'off, quindi voglio capire dopo quanto ti... Abbiamo fatto delle sottosezioni in effetti che si chiamano extra fringe, sì sì, stiamo andando proprio nelle sottosezioni e cercheremo una sintesi, prima o poi arriveremo. Perché sai cosa è quando lanciamo poi la call e cominciamo a girare per accogliere le adesioni, sono talmente tante diverse che catalogarle diventa... dovremmo arrivare alla sin, quando diventeremo bravi e grandi avremo una categoria e sarà tutta quella, quando saremo più conosciuti ovviamente. Si chiamerà Milano Off la categoria, si chiamerà proprio, già sarà quella il nome della categoria. Ti chiederò aiuto nelle definizioni perché qui è veramente diventa difficile. Sì, la Milano Off, allora l'off off o extra fringe, ci sono delle... è iniziato il 10, perché anticipa il fringe, è anche una maniera di far conoscere poi l'attività e portare a teatro gli spettatori dell'off, dell'off, dei quartieri, nel proprio spazio di quartiere, immagino poi, dico a Quarta Parete, in Bonati, sono spazi che fanno altro, cioè a Quarta Parete no, fa teatro dentro il passante, ma sono spazi che fanno altro, però vanno frequentati, devono diventare fortini culturali di quel quartiere lì, quindi il quartiere li deve conoscere. E quindi, per esempio, faremo stasera, saremo a inaugurare una mostra appunto a Inbonati, c'è una mostra tattile permanente all'hotel Madison, ma extra fringe c'è per esempio Arnaldo Mazzini il 22 settembre a Zelig, è una nostra proposta, è una collaborazione con Zelig, che abbiamo molto più ampia anche su Catania, perché lo porta su Catania, ma ci sono, ci sono poi l'otto ottobre, una cosa a punto zero, allo spazio punto zero, quindi al Beccheria, la co-direttrice, Francesca Vitale, che saluto, e che è la mia parte, la parte più importante del fringe, che sta più co-fondatrice, insomma, insieme, abbiamo organizzato tutto insieme dall'anno zero, un saluto Francesca, a proposito, che salutiamo, ha messo in scena dieci avvocate per definire, portare in scena le madri costituenti della Costituzione, e alcuni personaggi, premi Nobel, intervistati da Kerry Kennedy, su un libro che si chiama Speak Through the Power, sono un po' questi monologhi sulla condizione, sulle madri costituenti, e l'altra sui diritti umani, e chiuderà l'8 ottobre, ecco, questi sono l'off, l'extrofe, guardate, sul sito, veramente il programma, infatti ti volevo chiedere, sul sito e far vedere, che però c'è un, praticamente un libro, per vedere tutto questo anche, perché avete, cioè per farvi capire quanta roba c'è, farvi vedere quante pagine c'è, cioè non è, capite, non c'è un depliane via, cioè c'è praticamente un libro, un manuale di istruzioni, che vi spiega come fare, seguire, e cosa seguire al fringe, se no, a un punto, invece, molto più easy, c'è il sito, ricordacelo. Anche l'app, l'app, anche l'app, è facile anche da usare, anche quella, e da lì si può anche prenotare, comprare i biglietti, comprare la fill card, te la ricordi, l'abbiamo avuta da prima. La fill card, giusto, che ricordiamo la felicità interna lorda, giusto, quella lì, esatto, la card della condivisione, delle emozioni, e prendendo la fill card, anche online è molto semplice, 15 euro il costo, pagherete tutti gli spettacoli 7 euro, ma anche i biglietti sono molto a buon prezzo, nel senso da 12 euro, è il massimo che si può pagare, ma ci sono i carnet a 3, 6, 12 spettacoli, carnet, carta libera, quindi, è buon, anche con più biglietti nello stesso abbonamento, insomma, l'accesso, fino a 3 euro, e ci sono anche 100 biglietti, messi a disposizione da associazioni territoriali, sospesi, per persone che non hanno la possibilità di potersi fare un biglietto, per un'altra teatro, le attività collaterali, per esempio, dobbiamo ringraziare Milano, perché abbiamo lanciato il progetto, ospita un artista, quindi, i milanesi portano a casa, prendono a casa, gli artisti, e in cambio noi diamo un pass, e devo dire che questo è il secondo anno, secondo anno, ed abbiamo fatto il 100% di richieste, sono state coperte. Ah, vedi, vedi, i milanesi, sì, i milanesi hanno adottato gli artisti, bene, bene, bene. Renato, devo salutarti perché il nostro tempo sta per finire, c'è qualcosa che ci siamo dimenticati di dire? Ci siamo dimenticati di dire? No, io credo che abbiamo parlato un po' quasi di tutto, ringrazio appunto che tutti i partner, te compreso, e l'assessorato regionale al turismo, che ci ha inserito nei grandi eventi, la SIAE, che quest'anno è il nostro partner, da parte di chi crea, anche la SIAE, quest'anno siamo riusciti a comincere, e che abbiamo fatto... Hai fatto l'impossibile, sembrerebbe, bravo, Renato, non solo io, no, devo dire che abbiamo trovato un po' la quadra, perché... Oh, meno male, finalmente qualcosa di più. bello anche sulla SIAE. Abbiamo creato il Fringe Italia quest'anno, abbiamo creato il Fringe Italia, quindi che poi si sposterà appunto fra Milano a settembre, e Catania ci sposteremo le ultime due settimane di ottobre, quindi ormai da nord a sud il Fringe in Italia siamo noi. Ci siete, ci siete e copre l'Italia. Renato Lombardo, grazie mille davvero, ci vediamo, in questo caso io solo dico ci vediamo a teatro, invece no, a questo punto ci vediamo in giro invece, perché è ancora più bello. Vediamo in giro, lasciatevi trasportare dalle emozioni, e buon Fringe a tutti. Buon Fringe anche a te, grazie mille Renato, sotto di tutta la squadra del Fringe Festival. Grazie mille, Renato Lombardo, andiamo con un po' di musica, qualche consiglio per l'acquisto, poi torniamo qui per la chiusura della nostra trasmissione di oggi. Oggi è venerdì 20 settembre, 8.36 minuti, Good Morning Milano, sempre qui su Crystal Radio.